E ok 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 ci siamo, bentornati in questo nuovo video, bentornati su Afterside Crypto, io sono Emiliano e anche oggi torno al nostro consueto Morning with Crypto, l'appuntamento che ci accompagna da lunedì al venerdì con le principali news di mercato, con quello che è successo la notte andremo ad approfondire quello che sta accadendo nelle ultime ore tra la SEC, BlackRock e tutti gli attori di mercato perché c'è una pressione folle, il tempo passa e queste persone, questi signori non stanno aspettando più. E capiremo il perché sta accadendo questo con un prezzo di bitcoin che è cresciuto, quindi la notte è andato fino ai 29.300 dollari, insomma ne ho tante cose di cui parlare ma come sempre, prima di partire il mio avvito è uno, quello di lasciare un bel mi piace, qualora questi contenuti fossero di vostro interesse e di vostro aggredimento, mi aiutate tanto col canale, se siete nuovi ricordate di iscrivervi con il clic sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati e se volete sostenere il mio lavoro in maniera totalmente gratuita trovate qua sotto tutti i link in descrizione con i principali servizi che utilizzo personalmente e che vi danno gli sconti maggiori del settore, quindi se lo fate vi ringrazio appunto. E detto ciò partiamo, partiamo dalle parole di Powell perché ieri c'è stato questo chiacchierato di Powell, diciamo la chiamiamola così, nella quale si è andati un pochino a ripercorrere quelle che sono le politiche della Fed, beh è emerso qualcosina di interessante e infatti i mercati tradizionali, non so se avete osservato ma hanno corretto in maniera anche abbastanza aggressiva, questo perché comunque ha fatto leva sul fatto che l'inflazione rimane alta e che ci vorrà tempo e questa cosa del tempo chiaramente che cosa fa pensare i mercati? Politiche restrittive più lunghe di quanto potevano magari immaginare e soprattutto che comunque è un processo che va continuato a essere portato avanti nel tempo ecco questo secondo me è stato un po' il focus se vogliamo del discorso di Powell che è andato a dare abbastanza paura insomma allo stock market tradizionale quindi abbiamo visto il suo S&P 500, abbiamo visto Nasdaq, abbiamo visto tutti i principali indici anche mondiali ad avere comunque una correzione nella giornata di ieri in realtà abbiamo visto poi l'effetto contrario su che cosa? Su oro e su bitcoin che sono andati a prendere una posizione finalmente aggressiva nei confronti di un momento di mercato difficile ok? Bene, tutto questo in realtà va a essere a braccetto con quello che sta accadendo col signore qua Gary Gensler perché? Perché io ho guardato questo video molto rapido, ve lo consiglio, lo trovate comunque online su Twitter dove volete dove appunto vengono fatte delle domande anche a Gary Gensler di nuovo nei confronti degli ETF spot e vedete proprio come cambia l'atteggiamento e dice proprio sì ci stiamo parlando, stiamo parlando con i vari attori insomma che hanno fatto il feeling per chiedere l'ETF spot e quindi sembra che proprio un atteggiamento completamente diverso, molto meno stile rispetto a quello che si andava a osservare già qualche settimana fa qualche mese fa dove comunque la questione bitcoin per lui era estremamente spinosa e estremamente diciamo aggredita in questo caso rimane molto soft e quindi fa presagire qualcosa anche perché Grayscale non ha aspettato tanto tempo per twittare il fatto che abbiano di nuovo compilato il form per andare a richiedere la conversione di GBTC che ha un trust privato e chiuso a un ETF e che comunque vedete iniziano ad essere anche loro un pochino più morbidi, dicono che la loro intenzione è quella di lavorare in maniera collaborativa e appunto veloce con quella che è la SEC per appunto far fronte ai bisogni degli investitori in GBTC quindi iniziano un pochino ad ammorbidirsi i termini come ad andare ad aprire un po' le porte a ok dai torniamo indietro abbiamo sbagliato cerchiamo di trovare una quadra, un accordo che vada bene a tutti anche perché è notizia di anche questa poche ore fa come Ripple abbia vinto ulteriormente contro SEC visto che il ricorso della SEC non è stato accettato quindi capite che si trova un po' spalle al muro non tanto per i progetti crypto in sé ma proprio per attori di mercato come Grayscale e anche come BlackRock che continuano a spingere e BlackRock è decisivo a mio parere in tutto ciò perché essendo il principale asset manager al mondo americano capite che c'è poco da fare quando arrivano questi pezzi grossi e chiedono questi prodotti in maniera insistente e vanno sulle tv americane a parlare di fly to quality, bitcoin è importante, va inserito capite che Gary Gessler è già attaccato da tanti fronti diciamo che a questo punto rimane estremamente braccato che è in questa situazione e anche BlackRock appunto ha fatto l'update delle sue linee guida all'interno della richiesta per il tf spot così come altri attori come ARK, Fidelity e altri i più importanti sono stati citati quindi capite che anche questa cosa qua è un sintomo è un segnale di come stiano parlando, stiano dialogando internamente e stiano andando a sincronizzare insomma per quello che la SEC alla fine vuole e questo chiaramente abbiamo visto sul prezzo e tra un po' ci arriviamo prima però se volete vi ricordo una promo di Bitget trovate il link qua sotto è agganciata a questo link che trovate qua se depositate 100 dollari potete ricevere 100 dollari bonus è una promo in realtà abbastanza lunga perché arriverà fino al 17 di novembre ma io vi invito a farla se non avete ancora un account di Bitget qui trovate tutti i dettagli ma in ogni caso basta che fate un deposito appunto di 100 dollari e avrete 100 dollari bonus non male direi, niente di più, niente di meno detto questo vi ricordo ultima cosa anche la newsletter, the time sensitive newsletter che appunto è 100% gratuita cosa serve per spammarvi tutti i giorni, cosa a caso? no, assolutamente no serve per arrivare a voi se c'è necessità di un update on time quando serve e soprattutto quando magari i social non lavorano correttamente o c'è bisogno di una mail testuale quindi è un modo per arrivare velocemente non sono tanti ghirigori, non sono tante cose e prendetela come un alert di mercato quando serve arrivare a voi con qualcosa di importante è 100% gratuita quindi se volete trovate anche questa qua sotto in descrizione per poterle ricevere detto questo andiamo a vedere quelli che sono i gainers delle 24 ore abbiamo bitcoin sv on fire completamente on fire più 25% ripeto, estrema cautela ragazzi con queste cose perché quando vanno paraboliche più 67 giorni ok? ci sono, c'è da stare cauti stax un più 23 anche lui solano un più 11 i cash un più 8 injective un più 6 ripple un più 6 mx un più 5 toncoin un più 4 ave un più 4 nsle un più 4 steller un più 4 insomma lo vedete soprattutto i dati settimanali come sono estremamente aggressivi tra i losers praticamente nulla ipcoin un meno 3 safe pal un meno 2 uobi un meno 2 trust un meno 1,5 ma niente di particolare da segnalare nomi che comunque la maggior parte mantengono settimana positiva questo perché bitcoin ha avuto un'accelerazione molto forte e io sono contento appunto se andate a vedere il video anche di ieri ne abbiamo parlato di questa situazione e di come effettivamente a mio parere la situazione non era messa male eravamo in una certa zona di sosta avevamo un buon supporto avevamo dimostrato abbastanza resistenza nonostante questo fake pump dovuto alla news ok poi non confermata stiamo andando a mantenere bene il livello e stiamo andando vedete a tenere molto bene i supporti 12,26,50,200 ben spiegata rialzo sul daily bene il supporto appunto sui 27,9,28 mila dollari banalmente siamo andati a breccare e andare su sopra questo massimo locale dei 28,9,28 mila e 400 circa di top temporaneo ovviamente l'azione è ancora in divenire lo vediamo bene anche a livello orario e questo è molto positivo è molto positivo e sono contento di tutto questo il mio consiglio in questa fase a parte osservare sempre la dominance che è estremamente aperta ed è una buona cosa ragazzi io ve lo dico per le altcoin perché di fronte a un bitcoin forte è una dominance che fa nuovi massimi rispetto a questi precedenti di giugno ok siamo andati a fare un break importantissimo abbiamo completato un cap praticamente questo possiamo anche toglierlo abbiamo fatto una tazza vediamo se andremo a fare l'handle ma in ogni caso è positivo per le altcoin perché prima o poi questa dominance tenderà a scendere e se bitcoin si confermerà forte andrà a distribuire in maniera probabilmente massiva sulle altcoin ora io non voglio fare non vi dodo sapete così né finanziari né di niente però dati alla mano sappiamo che la dominance tende poi a dare indietro a un certo punto e se bitcoin si confermerà forte potrà essere interessante sulle altcoin che comunque non stanno reagendo tutte in maniera super aggressiva ok quindi di conseguenza vanno tenute in osservazione detto questo ragazzi io vi consiglio sempre una cosa quella di tenere una linea che sia il più giusta possibile io leggo tanti contenuti mi riportate anche tanti contenuti anche di persone appunto che scrivono fanno eccetera eccetera dicono chiacchierano magari in passato hanno fatto cose ma vabbè io vi consiglio sempre di non usare troppe troppe informazioni nel senso usatele in maniera ponderata perché sappiate sempre che chi vi parla ok soprattutto certe certe situazioni sono sbilanciate emotive dalla parte di queste delle proprie posizioni personali ok se sono long allora long se sono short deve andare a zero ecco questa roba qua è pericolosissima perché non è equilibrata quindi mi raccomando abbiate sempre il piano A il piano B se sale che cosa faccio se scende che cosa faccio sembrano cose semplici e banali ma fidatevi che molto spesso non si sa ok se ora torna a 28.2 cosa faccio zero è finita no ok così come se va a 30k a moon andiamo a 100k no ok quindi vanno elaborati dei piani e delle situazioni detto questo non voglio aggiungervi altro perché i target rimangono a mio parere questa zona qua se il movimento dovesse continuare mi interesserà vedere cosa succederà di nuovo a ridosso i 30.000 dollari perché è un'esistenza molto forte molto psicologica se vogliamo vedremo anche perché oggi è venerdì da domani parte il weekend quindi anche qua il scorso volumetrico se ci sarà comunque necessità di ulteriori update arriverà a voi on time come sempre insomma se vi fa piacere questi contenuti invito a lasciare un bel like iscrivervi al canale con clicca sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati insomma e vediamo il prossimo e ora ci vediamo aggiornati su tutti i social che trovate sempre qua sotto in descrizione ancora una volta vi auguro tutti una splendida giornata ciao ragazzi grazie a tutti